Ci mancava solo l'infortunio di Emiliano Bonazzoli. A rendere ancora più grigia questa giornata ci si è messo anche il riacutizzarsi del fastidio che l'aveva tenuto fuori nelle scorse settimane. D'accordo, è ancora prematuro per far scattare l'allarme, ma per la regina è un'altra brutta tegola, si farà di tutto per rimetterlo in sesto in vista della sfida interna con la nocerina. Per un attaccante che si ferma ce n'è un altro che ha ripreso lentamente ad allenarsi, ma senza forzare. Il riferimento ad Alessio Campagnacci è chiaro, per lui solo qualche giro di campo, ma è già qualcosa dopo il guaio muscolare, rimediato quasi un mesetto fa per capirci il rientro. E dietro l'angolo, anche se bisognerà attendere ancora un po' per evitare ricadute. Questo significa che domenica contro la nocerina, Breda quasi certamente si affiderà alla coppia Ragusa Ceravolo, anche se molto, diciamo tutto, dipenderà dalle condizioni di Bonazzoli. Da ieri intanto è tornato in gruppo anche Montiel, dopo l'esperienza in Kazakistan, il paraguaiano è rientrato alla base, tutto ancora da decifrare, tuttavia il suo futuro. Se ne riparlerà a gennaio, intanto si allenerà agli ordini di Breda.